fare un film sulla propria famiglia sul proprio mondo intimo è una sfida rischi di autocelebrarti oppure peggio di renderti una vittima sono marco simon cuccioni sono il regista di tutti insieme il documentario che avrà la sua prima al biograf film festival in questa versione online spero unica e questo è un film un documentario che parla dei nostri figli parla di come loro stanno crescendo con due papà parla di come si misurano con il resto del mondo sulla particolarità della loro famiglia ma anche un film su di noi su noi genitori e sul confronto che costantemente abbiamo con gli altri mentre cerchiamo le parole giuste per raccontarci per definire la nostra famiglia anche le nostre paure i nostri desideri la sfida è quella di trovare un equilibrio tra appunto questo mondo intimo personale particolare e un discorso più universale che possa parlare a tutti abbiamo fatto questo film che è poi il secondo episodio di una serie di documentari che stiamo facendo il seguito di prima di tutto che abbiamo fatto sette anni fa perché vogliamo in qualche maniera sembra assurdo ma proteggere i nostri figli sembra in contrapposizione sul fatto appunto di esporsi raccontarsi ma alla fine ci siamo convinti che farsi vedere per quello che si è è forse il modo migliore per proteggerli per preservarli e anche per dire sì questi sono i nostri figli ma sono anche i vostri figli per cui invitiamo il mondo ad amarli proteggerli e capirli quanto cerchiamo di farlo noi grazie